10 milioni e 700 mila euro. Dopo 17 anni dall'inizio delle trattative, la firma del notaio ha sancito la vendita dell'ex seminario minore di Tencarola dalla diocesi di Padova alla società Trifoglio di Bergamo, a questo prezzo. Una vicenda lunga e complessa partita nel 2003 con la società Cascina Torre, sempre di Bergamo, il cambio della società acquirente, diventata Trifoglio, una rivisitazione del prezzo in conseguenza delle variazioni urbanistiche, un contenzioso fiscale ancora aperto con il comune di Selvazzano, ulteriori trattative intercorse con la ferma volontà del seminario di concludere per utilizzare il ricavato della vendita per coprire le spese per l'acquisto e la ristrutturazione del nuovo seminario minore di Rubano e per il restauro degli ambienti della facoltà teologica del Triveneto e della biblioteca del seminario. Una storia lunga, travagliata e complessa a cui finalmente si pone la parola fine. Abbiamo sempre cercato una soluzione, ha commentato l'attuale rettore del seminario Monsignor Giampaolo Dianin, con la volontà di chiudere pensando soprattutto al bene comune, criterio che ci ha fatto accettare anche alcuni sofferti ma inevitabili sacrifici.